Sono youtuber. Perfetto, bisogna controllare subito se è vero. Come? Vado subito a controllare se è vero. E' bellissimo. Facciamo un cartello di navallo. Dai. Il nostro bottone. Un attimino esce la pasta. Mi fa la testa. Spostiamo dall'acqua e se non era appoggio. Perché lo metti lì dentro? L'acqua collente? L'acqua collente per finirlo di saltare in cima, in testa, per fare in modo che non entra l'acqua fredda. Perché se ci va del liquido dentro, l'acqua fredda o qualsiasi tipo di acqua, faccio la mano si rovina. Eccolo qua. Alzalo. Eccolo qua. Fermo così. E che si muove. Guarda. Siete un artista da tu. Il. Casi video privico. Grazie a tutti.